salve a tutti e benvenuti sul dito semo noi siamo da nannaccia vabbè dai buono poi so da Dan perché lui pensa di essere Dan ma no non è il colore di Dan allora iniziamo con un unboxing di un gioco allora ieri ho letto prenderai GTA 5 no per il momento no futuro anteriore siamo genuino tipo così marzo madonna oh cazzo ci stanno cose da comprare e ho comprato questo che reputo un pochettino più divertente di GTA 4 sicuro cioè perché puoi fare delle cose strepilose soprattutto in questo che ci sono i superpoteri quindi puoi cazzeggiare tutto spiano leviamoli questi sono i codici cazzo ma è tutto è tutto un codice sto gioco si vabbè non fai vedere i libretti bravo dillo che stanno subito vabbè non lo avete nemmeno ora stiamo lavorando allora qui vediamo libretto libretto ci sta perché ci sta ma tutto è il mio anche è nero quindi fa un culo dai vai vedere il disco rigido il disco rigido non è questo però va bene il disco di gioco il retro per davanti poi questa è la command and in QF edition quindi è pure in edizione speciale io ci ho giocato ai sensore non è che mi ti ho piaciuto tantissimo meglio GTA guardia vieni qui che stai sotto la luce di che colore è lui giusto è nero bravi quindi questo unboxing così veloce che poi ho detto che il prossimo unboxing sarebbe stato quello di di pokemon ma in realtà no perché poi non so come cazzo faccio per trovare i soldi e mi sono comprato questo quindi GTA 5 lo compriamo molto in futuro perché dato che servizio marzo hai detto marzo febbraio gennaio non lo so non sto a scala domani no domani no ottobre no perché ottobre si sa che cazzo esce quindi ottobre non si sa catch out to pokemon non ho fatto niente la faccia felice ti puoi reggliare si si esce ma gana catch il mondo dai gana catch il mondo poi ci uscirà la play 4 dicembre perché ormai novembre è l'anno col cazzo poi a gennaio non esce un cazzo quindi gennaio penso di prendere il GTA 5 io lo prendo Battlefield 4 non dire quel gioco che devi prendere a settembre non lo dire FIFA 14 ha detto quindi scrivete sotto i commenti se è un deficiente a lui eh che è fab sei un deficiente poi vabbè sei nero sei nero poi vabbè vabbè non è nero formula 1 senti che cazzo ma è tutto GP fa schifo il meglio Superbike a questo punto no no preferisco quello di GP scrivete pure sotto il meglio Superbike poi vabbè watchdots ah si watchdots è un comprobabile 4 domani niente Call of Duty si non ci vuole dei giochi tanti tanti giochi si Call of Duty, Battlefield, FIFA 14 tutti i peggio giochi così di immaginabili che watchdots 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 dog SS dog SS eh ma dai un gioco di merda no un gioco sensato che c'è dentro la mia scusa perché Battlefield 4 scusa scusa eh ma quando hai fatto Battlefield 4? eh si eh allora qui nel 2013 2013 si a noi io con dentro 2013 eh c'è 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 l'infermazione vabbè non poi non ce li mette tag quindi se li vedete li vedete sono contento ma sono contento veramente sono contento di quello che mi ha scritto siamo rincoglionito non riesci a dire PS vita ma non fate mori a scadì sono contento che ci hanno scritto la la classifica la classifica ma ma poche persone ne hanno scritto perché le altre sono poco reattive eh 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 sto scherzando ovviamente quindi siamo contenti proprio di stare in questo canale è bellissimo ci siamo proprio bene dentro un po' bello largo si si vabbè a parte che ci sono segretetto quindi dai dai non potevo ringraziare quindi un stronzo dai dai nel fan iscrivetevi al canale del dito semo poi dici chiudi chiudi e continui ad aggiungere argomenti ma che dove fai io non ho mai detto iscrivetevi non l'ho mai detto vabbè iscrivetevi si può dire però non l'ho mai detto vabbè dai quindi che stava a dire? ah si ciao quindi ciao da me da me da me dal fab dal dan ciao a tutti